guardate oh guardate oh stanno a camminare dai mamma mia oh mi dovete svegliare oddio ma come glielo dico a questo che mi dà aiuta pure il caso da sola non ce la farò mai poi capirai oggi è domenica con la partita fatti forza amore senti devo dirti una cosa passala la devi passare mamma mia si amore dimmi 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 ecco amore vedi di amore che mi stai a dire non è che mi aiuteresti ma proprio un aiutino nelle polizie di casa perché durante la settimana non riesco mai e poi tu peggio me sento e no e scusa eh ma che me lo dici così tutto di botto avevamo detto domenica relax stiamo solo io e te amore ci facciamo le coccoline cenette e poi tanto amore e invece no tenesti con le pulizie di casa che c'è da pulire poi a venire mai nessuno cani e gatti non ce l'avemo stiamo sempre attenti mi fai mettere pure i copriscarpa manco stessi a visitare una casa con la gente immobiliare è casa nostra attento che si sporca e poi diffonde i germi e il virus si diffonde mamma mia o a cucina cucini mai a parte le zuppette sucche e carote io ci provo a cucina eh che comunque me la capicchio pure ma guai se metto mano in cucina e mo di domenica vuoi che ti dà una mano a fare le pulizie di casa ma lo sai che ti dico bella mia che io da domenica prossima me ne vado a casa di mia madre servito e riverito con mi nonno che scorreggia ogni tanto però se fanno due risate mi zia che ancora se avete replica the beautiful ma almeno mi trattano da principe ciao bella ma certo amore ecco ci mancherebbe ma vuoi contare su di me figurati con giusto il tempo che finisce la partita e poi ti do una mano a pulire casa eh amore che caro che sei non ci credo giuro ecco però dovremmo iniziare subito perché domani lunedì quindi si ricomincia se non possiamo fare le ore piccole eh dai oh oh ma fermane bravo anche gli angoli che lì si forma tanta polvere per fortuna che ero io che ti do andavo a te fatto tutto io ho fatto stanco morto tu amore per ultima la camera da letto tu vai comincia io inizio a guardarmi amore oh ma ti sei addormentato ciao a tutti ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto questa fa la parte mia non ho che mi stai pure e mi dà guardate io chiaretta verrico è tornata la piccoletta in un mio nuovo video spero che vi sia piaciuto che vi siano fatte due risate soprattutto quando lei fa un po' la no che cos'è voglio ringraziare federico fax de marquis qui al microfono e il buon andrew steel anche andrea ferini anzi al contrario che dopo vedrete per le riprese però prima di chiudere voglio fare un bel po dei saluti ciao samantha ciao donato carretti mago lerio toni di santi donatella macri adada luigi picarelli andrea camerini claudia murr alessia devitt lisa simonetti e marco mark maceri spero che questo video vi sia piaciuto iscrivetevi al canale attivate la campagna di aggiornamenti se siete arrivati fino a questo momento andate a commentare con copri scarpe copri scarpa copri scarpa che è questo che è quello che mi ha fatto mette lei per far sto video e vabbè va e se non lo sai salo ciao ciao